Con delibera in corso di pubblicazione il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Enna Francesco Iudica ha approvato la proposta di atto azientale, il documento che contiene le scelte strategiche e il modello di organizzazione e funzionamento dell'azienda in conformità con la previsione dell'assessorato regionale alla salute che ha adeguato l'organizzazione ospedaliera quando previsto dal decreto Balduzzi. Resta invariata la rete ospedaliera e vengono innovati alcuni aspetti relativi all'organizzazione amministrativa. Dopo l'approvazione dell'assessorato sarà possibile procedere alla revisione della dotazione organica e all'avvio dei concorsi per tutte le aree dirigenziali.